La lirica delle origini dalla Francia all'Italia Oggi facciamo una lezione importantissima Perché partiamo infatti di quelle che sono le prime poesie liriche della letteratura italiana Ma per far questo dobbiamo parlare ancora una volta della Francia Sia per l'epica, la volta scorsa abbiamo visto l'epica, l'epica medievale Sia per la lirica si parte sempre dalla Francia Solo che per l'epica era in lingua d'oil Mentre invece per la lirica è in lingua doc Quindi oggi parliamo di lirica Quindi di una poesia d'amore, di una poesia di carattere personale, soggettivo Mentre la volta scorsa abbiamo parlato di epica Cioè di una poesia oggettiva, di una poesia in cui erano sintetizzati i valori, gli ideali Dell'epoca Ecco, questa poesia, una poesia quindi lirica, è una poesia di corte Delle corti appunto provenzali Siamo nella metà del XII secolo Quando sorge questa poesia nelle corti provenzali In lingua romanza, in lingua doc, in lingua provenzale Viene chiamata anche trobadorica Dal verbo trobar, comporre Da cui l'aggettivo trobadorico Quindi i trovatori erano i compositori Erano compositori di queste liriche E anche gli esecutori di queste liriche In questi ambienti di corte Gli ambienti delle corti provenzali Che erano in auge nel XII secolo E furono invece poi abbattute, sterminate Insomma, con la crociata contro gli albigesi Nel secolo successivo Ecco perché poi non ebbe seguito, diciamo Questa lingua, la lingua provenzale Questa lirica Bene, allora Quali sono le caratteristiche della lirica provenzale? Allora, il tema d'amore Come in generale, nella maggior parte Giusto delle liriche, delle poesie Il tema principale è quello dell'amore L'amore è per una donna Domna in provenzale Dal latino domina Che vuol dire anche signora, come ben sappiamo E infatti questa donna è la signora del cuore, del poeta Poi, l'amore è sempre adulterino Anche qua troviamo una differenza rispetto all'epica Perché nell'epica L'amore poteva essere nell'alvio del matrimonio Come Erek e Nid Oppure adulterino Come nel caso dell'Ancillotto Ginevra E di Tristano Isotta Invece nella lirica provenzale è sempre adulterino Cioè vuol dire sempre extraconiugale La donna è sposata La donna è generalmente la signora della corte O comunque una donna di classe sociale elevatissima Già sposata Il poeta non è sposato con la donna Il poeta quindi cerca disperatamente di vedere ricambiato il suo amore Che è un amore comunque al di fuori del matrimonio Poi L'amante può solo sperare che la donna accetti il corteggiamento Ma sarebbe contro la cortesia spingersi oltre Questo teoricamente Ma in certe poesie Il poeta, il trovatore è più esplicito Explicit, poesie più esplicite In cui si fa una proposta precisa alla donna Un incontro quindi d'amore Poi, altra caratteristica della poesia provenzale Della lirica provenzale Il poeta si impegna a non rivelare mai l'identità della donna Usa un segnale Il segnale quindi serve appunto per non compromettere la donna La donna non deve essere compromessa La donna, il più delle volte dicevamo, è la signora di corte E quindi non deve comparire il suo nome sulle liriche, sulle poesie Altrimenti potrebbe essere compromessa E c'è un segnale, uno pseudonimo La sofferenza d'amore è benvenuta Quindi è il sentimento contraddittorio Che vedremo comunque anche nella poesia della lirica siciliana Che leggeremo È proprio il seguente Il poeta soffre Ma nello stesso tempo prova piacere Prova un sentimento che lo invade tutto Un sentimento d'amore che lo invade totalmente E quindi non si sottrae a questa sofferenza Perché è una sofferenza piacevole Chiamiamola così In modo antitetico È tutto un gioco di antitesi Che vedremo appunto Di ossimori di antitesi Che vedremo appunto Esemplificate nella poesia che leggeremo Anche se è una poesia siciliana e non provenzale Infine La donna non deve prestare ascolto ai lusingatoi Lousangers Che vorrebbero dividere gli amanti per invidia Quindi non è detto che la donna non corrisponda mai Qualche volta corrisponde E allora a questo punto ci sono le dicerie Quindi le chiacchiere di questi invidiosi La donna non deve tener conto di questo Bene Questo è il nucleo delle tematiche della lirica provenzale Il trovatore Che differenza c'è fra un trovatore e un giullare? Mentre il giullare è sempre un popolano E che quindi esprime nella sua poesia giullaresca Vedete Dario Fola molto ripreso questo concetto Esprime anche una sorta di contestazione Nei confronti del potere Una contestazione un po' implicita più che altro Visto che non poteva essere così esplicita Invece il trovatore può essere sia nobile sia borghese Sia persona di umile origine Quindi c'è una gamma molto ampia Molto vasta Comunque è uno che Come dire A differenza dei siciliani Dei poeti siciliani che vedremo Cerca proprio nella sua attività di poeta Di potersi sostentare Quindi ad esempio Dicevamo anche persone di classe sociale più bassa Che con questa attività cercano di trovare un compenso Una protezione, un compenso E' molto importante il trattato di amore di Andrea Cappellano del re di Francia Scrisse appunto questo trattato De amore in latino Con tutte le caratteristiche che abbiamo elencato finora E che sintetizzano il concetto di amore cortese E gli ebbe come fonte di ispirazione anche Ovidio Ovidio è uno scrittore dell'età di Augusto Che ha scritto Lars Amandi L'arte di amare Quindi come un uomo può sedurre una donna In latino I remedia amores invece Come una donna può consolarsi Delle sofferenze d'amore Dovute al tradimento O alla partenza di un uomo Ha scritto le metamorfosi In cui spesso parla di amori Che poi portano ovviamente Come sempre in questo libro delle metamorfosi Portano a una trasformazione Della persona In un animale In una pianta Ecco Ovidio è un punto di riferimento Insomma possiamo dire C'è la cultura Ecclesiastica Che Per esempio Incentiva i poemi epici Per dare un senso All'agire dei cavalieri Quindi col modello Del paladino cristiano E poi c'è la cultura E poi c'è la cultura laica Che si sta Appunto Riorganizzando In queste corti provenzali Che non a caso poi Come abbiamo già detto Abbracceranno Insomma Anche Si diffonderanno Delle eresie Insomma In queste corti In particolar modo L'eresia dei catari Appunto albigesi Che Invece Incentra la sua attenzione Su altre tematiche Quindi Appunto L'amore In modo particolare Bene Allora Lo studioso Eric Köhler Ha affermato In un suo studio Che i trovatori Per la maggior parte Sono Appartengono Alla piccola nobiltà Ad esempio I figli di cadetti Abbiamo già spiegato Che il figlio primogenito Aveva In dote In eredità Il castello Tutte le proprietà Del padre Mentre I secondogeniti I terzogeniti Eccetera Erano i cadetti Doveva andare a fare i cavalieri Per esempio Cercarsi Fortuna In qualche modo Oppure Dice questo studioso tedesco Facevano i trovatori Quindi facevano I cantanti In questo modo Si spiegherebbe Anche il discorso Della domina Domina La signora Sarebbe quindi Il loro Anche un tentativo Di elevazione sociale Quindi con l'amore Della donna Vorrebbero acquistare Il potere Del signore Ecco l'interpretazione Di questo studioso Che però Può essere Facilmente Messa In crisi Dal fatto Che Comunque Uno dei Più grandi Importanti Trovatori Fu un signore Quindi Che apparteneva All'alta nobilità Non alla piccola nobilità E fu infatti Guglielmo IX Duca d'Aquitania L'abbiamo già detto E lo sottolineiamo Quindi lo ripetiamo I trovatori In realtà Non appartenevano Solo a una classe sociale Ma potevano appartenere A più classi sociali Bene Le forme poetiche Le forme poetiche Le due scuole Della lirica Trovadorica Sono Trovar Clus E Trovar Le Quindi Trovar Clus Dal latino Clausus Poetare Comporre In modo chiuso Impenetrabile Difficile Sia dal punto di vista Formale Sia dal punto di vista Del contenuto Invece Trovar Le Dal latino Levis Comporre In modo leggero In modo facile In realtà Anche questi Compositori Del Trovar Le Erano piuttosto Raffinati Perché insomma I trovatori Dimostrano Una certa Raffinatezza Ricercatezza Formale Fino Appunto Agli eccessi Possiamo dire Del Trovar Clus Una raffinatezza Formale Talmente elevata Che non si riesce Neanche a capire Quello che dicono Tante volte E anche Volutamente Questo Perché Quelli del Trovar Clus Cercavano di Moltiplicare Le figure Elettoriche Usavano le stesse Rime Ripetute Più e più Volte Incastrate Fra di loro Ripetevano Gli stessi Concetti Ma In un modo Spesso Abbastanza Misterioso Criptico Bene La perfezione Stilistica Linguistica E metrica Denuncia Una profonda Conoscenza Dei mezzi Espressivi Praticamente Quindi Loro Erano degli Studiosi Erano degli Intellettuali E quindi Erano dei Chierici In base a quello Che avevamo detto Le volte scorse Quando avevamo spiegato Che l'intellettuale Medievale Era un Clericus Quindi Avevano Una formazione Di questo Tipo Però il Clericus Leggeva anche i testi latini E poi poteva permettersi di leggere Orazio Lo stesso Andrea Cappellano Lo dice lo stesso nome No? Che è Cappellano Della di Francia Luntierico Giusto? Eppure scrive Un trattato di amore Sono delle Contraddizioni Se volete Ma abbastanza Come dire Normali All'epoca I trovatori Erano dei cantanti Erano anche dei musicisti Si accompagnavano con la viella Uno strumento musicale Sappiamo già Di come la poesia Alle origini Sia strettamente collegata Con la musica Ebbene Alle origini Della poesia medievale Della poesia romanza Cioè nelle lingue neolatine C'è questa stretta connessione Fra musica e poesia Praticamente Il provatore Faceva una performance Davanti alla corte E quindi La sua canzone La cantava proprio Ecco Purtroppo Non ci sono rimasti Molti Spartiti Anche perché Magari Era un po' Improvvisava E quindi Ci sono rimasti Testi Delle poesie Ma non Le partiture Musicale Ma sappiamo Di questa stretta Connessione Tra la poesia La musica Nella lirica Provenzale Vari tipi di componimenti Della lirica Trobadorica La metrica I componimenti Della lirica Trobadorica Bene Il componimento Fondamentale Era la canzone Che era di argomento Amoroso E come dice La stessa parola Era musicata Nasce La canzone Nasce Per essere Accompagnata Da musica Perché la canzone Provenzale Era così Invece La canzone Nella letteratura Italiana No Non sarà Non prevederà Un accompagnamento Musicale Rimarrà comunque L'aspetto formale Molto elaborato Molto preciso Della canzone Così come erano Le canzoni Provenzali Molto Raffinate Dove erano Anche Le canzoni Insomma Della letteratura Italiana Il Silventese È praticamente Una canzone Che restesse Più o meno Caratteristiche Formali Della canzone Verra e propria Solo che È un argomento Politico Nel senso Che questi trovatori Spesso anche Per ringraziarsi I signori Talvolta Entravano Nelle questioni Politiche Esaltavano I signori Le loro imprese Le loro conquiste Oppure Colpivano I nemici Dei signori Quindi Quindi attraverso Delle battute Molto Argute E questo Avveniva Nel Silventese Poi c'è La Sestina La Sestina È un componimento Con sei Versi Giusto? Magari La Sestina Poteva essere fatta Poteva essere una poesia Di tante sestine Diciamo Fino a delle sestine Molto elaborate Era questo Un componimento Infatti Molto Usato Nel Trobar Clus La Sestina Retrogradazio Crociata Era un Componimento Molto Complesso In cui Le sei rime Si ripetevano Per sei volte Tutte intrecciate Fra di loro Arnaud Daniel Era il più importante Esponente Del Trobar Clus Mentre Bernard De Ventadorne Era esponente Del Trobar Le Il compianto Il compianto È una poesia Ispirata Dalla morte Di un signore Il più importante Famoso Compianto Per noi È il compianto Immorta Di Serb La Caz Di Sordello Dagoito Che poi Sarà un poeta Addirittura Incontrato Da Dante Nella Divina Commedia È un poeta Molto particolare Perché è un poeta Mantovano Che è da Goito Vicino a Mantua Ma che scrive Appunto In Provenzale Poi c'è La Pastorella Componimento In cui un poeta Cavaliere Tenta di sedurre Una pastora Qualche volta Ci riesce E qualche altra No L'amore Descritto Nella Pastorella È un amore Molto meno elevato Molto meno nobile Rispetto appunto A quello Della canzone È un amore Molto più popolare E molto più Istintivo E naturale Insomma Questa cosa Verrà ripresa Invece In ambito Rinascimentale Oppure Addirittura Nell'Arcadia Insomma Altri poeti Riprenderanno Il componimento Della Pastorella Ma non Quelli della Lirica siciliana O dello Stil novo L'alba Il lamento Di due amanti Che devono Separarsi Al sorgere Del sole Anche questo Componimento Non ebbe Grande fortuna Nella letteratura Italiana La tensione Ecco Delle poesie Che sono fatte Diciamo così Tra un poeta E l'altro Che poi Scherzano E giocano Un po' Si rispondono Per le rime L'un con l'altro Ebbene Questo qua Invece È un componimento Che è importante Interessante Per noi Perché anche Dante Scrisse una tensione Cioè Si mise a duellare Con i versi poetici Con un certo Suo amico Forese Donati Che poi Rincontreremo Nel purgatorio Punito fra i golovi Nel girone Dei golosi Del purgatorio Infine C'era il Plazer Che era un catalogo Di cose piacevoli E l'Enoeg Catalogo di cose Spiacevoli Questa È la poesia Trobadorica Ma a noi Interessa Questa soprattutto Perché ha ispirato In gran parte La scuola siciliana Ora Quando noi Quando io Studiavo Letteratura Si diceva Che il primo Componimento La prima Lirica Insomma Vera e propria Della letteratura Italiana Era Il cantico Delle creature Laudes creaturarum Di San Francesco E poi subito dopo Le poesie Della scuola siciliana Poi invece Si è scoperto Che nella zona Dell'Italia Centrale C'era già qualcuno Che aveva scritto Una lirica Quando io stava In letù Catene Quindi è una specie Di eccezione Questa Questa lirica In un volgare Dell'Italia Centrale Ma Sicuramente Le prime Liriche Amorose Che appartengono A una vera Scuola Scuola poetica Sono quelle Della scuola siciliana L'anno scorso I ragazzi Dell'ex Seconda C Hanno letto La sposa Normanna Che è la storia Di Costanza D'Altavilla E di suo figlio Federico Secondo Bene Federico Secondo È un personaggio Importantissimo Abbiamo già studiato Quindi l'anno scorso Della sua apertura mentale Culturale Dello suo spirito D'iniziativa Sin da quando era bambino Poi dopo diventò Appunto Imperatore Ed ebbe scelse Come reggia Palermo E Palermo diventò Un punto di riferimento Eccezionale Importantissimo Per la cultura Da tutti i punti di vista Sia dal punto di vista Scientifico Filosofico E furono accolti Appunto Personaggi Anche studiosi Provenienti anche Dall'Oriente Sia dal punto di vista Letterario E quindi qua Abbiamo Questa prima scuola Letteraria Poetica Italiana La scuola siciliana Veniva chiamata La Magna Curia Ecco la curia La corte Di Palermo Era grande corte Di Palermo E scrivevano Questi poeti In un siciliano Illustre Abbiamo già studiato A proposito di Dante Come introduzione Alla Divina Commedia Che nel De vulgari Eloquenzia Dante Prospetta Un volgare Illustre Cardinale Aulico E curiale Illustre L'abbiamo già detto È un volgare Che deve illuminare Gli altri Ebbene Diciamo che All'inizio È il volgare Siciliano Imporsi Sulla scena Della letteratura italiana Proprio per via Di questa corte Di Palermo Che era Che era così importante La corte Di Federico Secondo Se le cose Nella storia Fossero andate Diversamente In italiano Noi italiani Parleremo Siciliano Invece Del Toscano Poi però Con la morte Di Federico Secondo Diciamo che La sua regia Il suo potere Si perde E quindi Decade anche La scuola Siciliana E quindi Questo Primo tentativo Viene un po' Viene un po' Meno Ecco Ovviamente I poeti Della scuola siciliana Scrivevano In questo siciliano Illustre Con molti Latinismi E molti Provenzalismi Ecco quindi Nasce subito Colta La letteratura italiana Nasce Non come I primi Testi di poesia Della poesia italiana Sono testi colti Raffinati Elaborati Sono le poesie Della scuola siciliana Che hanno Che risentono Della tradizione Ancora latina Con tanti latinismi E Provenzale Che era una tradizione Già bella Importante Affermata Nell'Europa Del tempo Tra i poeti Della scuola Dobbiamo Evidenziare Soprattutto Giacomo Dalentini Detto anche Jacopo Dalentini E Lentini È una città Della Sicilia Vissuto Circa Dal 1210 Al 1260 Notaio Ecco Così come tutti Gli altri esponenti Della scuola siciliana Egli non Non viveva Di poesia Non viveva Di lirica Ma era Un notaio Quindi all'interno Della corte Di Federico II Come abbiamo già detto Anche nei comuni Si diventano Sempre più importanti I notai Assumo Un ruolo Importantissimo Allora Lui scrisse Canzoni Canzonette Sonetti E un discorso Non lasciatevi ingannare Dalla parola discorso Che non è assolutamente Un testo in prosa Ma era un testo In poesia In cui Però a differenza Della canzone Le strofe Avevano Delle Misure Differenti Fra di loro Discordanti Appunto Fra di loro Differivano Fra di loro Le strofe Per struttura Per ritmo Addirittura Per lingua Certe volte Giacomo Dalentini Per il 99% Degli studiosi È Da considerare L'inventore Del sonetto Abbiamo visto Quali erano I componimenti Della lirica Probadorica Abbiamo notato Che non c'era Il sonetto Fra questi Componimenti Il sonetto È un'invenzione Italiana Diciamo Poi dopo Se avete letto Shakespeare Anche Shakespeare Scrisse dei sonetti Quindi poi Dopo il sonetto Dalla letteratura italiana Si è diffuso Anche in altre letterature Ma è nato In quest'ambito È nato Nell'ambito Della scuola siciliana Da Messina Proveniva Il giudice Guido Delle Colone Abbiamo già detto Tutti Poeti siciliani Fanno un altro lavoro Il primo Era un notaio Questo è un giudice Il primo Veniva Da Lentini Il secondo Da Messina Sempre quindi Località della Sicilia Ed è molto bravo Molto raffinato Molto elegante Guido delle Colonne Nelle sue poesie Che è nato Quando è nato Giacomo D'Arentini È vissuto però Fino Il 1287 Almeno E poi Stefano Proto Notaro Come dice il suo cognomen Chiamiamolo così Era notaio Anche lui Era un Proto Notaro Uno degli antichi Notari È importante Interessante Per noi Perché Di lui ci rimane Una poesia In lingua originale Cioè così come L'aveva pensata lui Tutti Questi poeti siciliani Scrivono in siciliano Illustre Ma in realtà Poi noi leggiamo Le poesie Toscanizzate Tranne questa poesia Proprio di Stefano Proto Notaro Che è una poesia Che ci è rimasta Originale Che si intitola Pirmeocori Alligrari Poi abbiamo Pier delle Vigne Che viene da Capua Invece Quindi va bene Dalla Campania Pier delle Vigne Però diventa Cancelliere Dell'imperatore Consigliere Dell'imperatore Quindi un personaggio Importantissimo Alla corte Di Federico II Fino a quando Intorno proprio Agli ultimi anni Quindi nel 49 Fino a quando Delle persone Non riescono A convincere L'imperatore Che lui L'ha tradito Cioè che Pier delle Vigne Ha congiurato Contro l'imperatore E allora Pier delle Vigne Viene incarcerato E talmente disperato Che poi Batte la testa Contro le pareti Del carcere Fino a suicidarsi E lo ritroveremo Nel tredicesimo Canto dell'inferno Fra i suicidi Nella selva Dei suicidi E' stato Un grande poeta Anche lui Ci sono rimaste Poesie di Pier delle Vigne Poi di Rinaldo D'Aquino Di Giacomino Pugliese Poesie anche Poesie di Federico II Ci sono delle poesie Scritte Dallo stesso Imperatore Appunto Da Federico II Così come vedremo Poesie scritte Da Lorenzo De Medici Anche lo stesso Federico II Si direttò Di poesia Benché Prediligesse La scienza La filosofia Eccetera Federico Lo vedremo anche lui Nella commedia Di Dante Fra gli eretici Perché Si direttava Molto di filosofia E seguiva Diciamo Delle teorie Filosofiche Non del tutto Ortodosse Diciamo In riferimento Alla chiesa cattolica Bene Il rapporto Con la poesia Trobadorica Federico II Non amava Ascoltare poeti Cantare canzoni Alla sua corte Quindi Alla sua corte Non c'era Uno dei trovatori Alla sua corte C'erano i poeti Della scuola siciliana Che erano Suoi funzionari Che dipendevano Da lui Come notai Giudici Appunto Piede le vigne Eccetera E non erano poeti Di professione Invece i trovatori Erano poeti Di professione Che a certe volte Giravano Per le corti A fare le loro Performance A cantare Eccetera Ebbene Nella corte Di Federico II Non vennero mai Dei trovatori Ma noi sappiamo Che comunque Influirono molto Sulla scuola siciliana Come influirono? Beh Attraverso dei codici Che contenevano Poesie provenzali Che erano presenti Nella biblioteca Lì nella reggia Di Palermo Come erano arrivati Questi codici Alcuni dicono Addirittura Che Federico II Aveva degli alleati Erano dei signori Ghibellini Ovviamente Diciamo che Ha fatto un trattato Appunto Con Federico II E magari Cioè Vogliono alcuni studiosi Che Quando si sono messi D'accordo Da un punto di vista Politico-militare Di stare insieme Questo Signore Che amava Invece Moltissimo I trovatori Ed era Protettore I trovatori Avrebbe donato lui Questo codice Di Poesie Di trovatori A Federico II Nel 1232 A Pordenone C'è stato l'incontro Fra Federico II E questo signore E allora Si dice Va La scuola siciliana Nasce Nel 1232 Forse è vero Forse Magari bisogna andare Qualche anno prima Quando è stato incoronato L'imperatore Federico II Comunque Rimane sempre Probabilmente Precede Il Cantico di Frate Sole È probabilmente Stato scritto Comunque Prima Della prima poesia Della scuola siciliana Da un punto di vista Cronologico La scuola siciliana Avviene dopo Il Cantico delle Creature Il Cantico di Frate Sole Parliamo adesso Della canzone E del sonetto Canzone Nel periodo medievale È ben diversa Rispetto alla canzone Leopardiana L'abbiamo spiegato L'anno scorso Insomma Non riprendiamo L'argomento Guardate comunque qua Come era ben preciso Lo schema Di una stanza Cioè di una strofa In una canzone Appunto Ad esempio Nelle canzoni Dei provenzali O dei siciliani Come vedete La canzone Era divisa In stanze E le stanze A loro volta Erano divise In fronte E sirma Ogni fronte Aveva Almeno due piedi Primo Il primo Secondo piede Insomma Potete vedere Questo schema Che si ripeteva Tale quale In tutte quante Le stanze Della canzone Tranne nell'ultima stanza Che era detta anche Congedo Che poteva essere Più breve Ecco Un'altra cosa Interessante Che vorrei Sottolineare E che talvolta La struttura Della canzone Veniva Arricchita Con alcuni Espedienti Tratti Dalla Poesia Provenzale La Koblas Capfinidas Finiva una strofa E nel verso Finale Della strofa C'era una parola Quella parola Era presente Anche all'inizio Quindi nel verso Iniziale Della strofa Seguente E questo è il caso Della Koblas Capfinidas Invece Le Koblas Capcaudadas Erano Delle strofe Koblas Vuol dire strofe Che avevano Una coda Che si ripeteva Nell'inizio Della strofa Successiva Cioè Voglio dire L'ultimo verso Di una strofa Rimava con Il primo verso Della strofa Seguente Queste due Mi Interessava Sottolineare Invece Invece Dicevamo Il sonetto Ecco Abbiamo già detto Che Giacomo Darentini Fa nascere Il sonetto Il sonetto Nasce nell'ambito Della letteratura Italiana Ed è Probabilmente All'inizio Una stanza Cioè Una strofa Di canzone Isolata Da sola Quindi Il sonetto È Una sola Strofa Una sola stanza Costituita Da 14 Versi Sono tutti Endecasillabi Nella tradizione Letteraria Italiana E sono divisi Quindi In due quartine E due terzine Generalmente I siciliani Usavano Nelle quartine La rima Alternata A B A B A B Invece I toscani Predilessero Poi La rima Incrociata A B B A Nelle Nelle quartine Dico C D C D C D Insomma Con vari schemi Ecco Bene Adesso Parliamo Della trasmissione Della poesia siciliana Come abbiamo già spiegato Prima Le liriche Siciliane Non ci sono pervenute Nell'originale Ma in una Trascrizione Toscanizzata Perché i poeti Toscani Come spiegheremo La prossima volta Anche loro Fecero nascere Una scuola Di poesia Toscana La lirica Siculo Toscana Che quindi Aveva i siciliani Proprio come modello E loro copiarono Queste poesie Siciliane Toscanizzandole Lo stesso Dante Lesse Le poesie Della scuola siciliana In questa veste Toscanizzata E questo spiega Perché ci sono Le rime siciliane Che sono delle rime Imperfette Di cui dopo parleremo Ecco Ci sono Delle differenze Fra la poesia siciliana E la lirica Trobadorica Quindi La lirica provenzale Sì Anzitutto Nella poesia siciliana In generale Nella poesia italiana Non c'è più lo stretto legame Fra musica e poesia Che invece c'era Per i trovatori I poeti siciliani Non sono Anche dei cantanti O dei musicisti E così Le loro poesie Al massimo Sono lette Recitate Scritte Nate per la scrittura Potremmo dire Non sicuramente Nate Per un'esecuzione Orale Musicale Cantata Eccetera Poi I siciliani Prediligono L'endecasillabo E il settenario Lo fanno loro E da loro in poi Visto che i siciliani Sono gli iniziatori Di quella che è la poesia italiana I poeti italiani Anche loro Privileggeranno L'endecasillabo E il settenario A differenza dei provenzali Che avevano Moltissimi versi Molto diversi Fra di loro Poi I siciliani Non comporranno Sirventesi Per forza Perché i siciliani Adesso vedremo Avranno come unico tema L'amore Siccome il sirventese Era di carattere politico Non ci sarà Ma neanche l'alba E la pastorella Ci saranno Saranno scritte Da siciliani Poi Come ho già detto prima Non ci sarà Poesia politica Poi ancora Ci sarà Rifiuto Di generi popolari A favore Di una poesia Aulica Sostenuta E molto Raffinata E molto Diciamo Aristocratica Come poesia Questa Poesia siciliana Non è una poesia Per il popolo Come invece Poteva essere La poesia epica Medievale Poteva essere O anche la stessa Lirica provenzale Almeno era per le corti Almeno poteva essere Eseguita in pubblico Invece no La poesia siciliana È nata per essere scritta O letta In un ambito Molto ristretto Dal punto di vista Formale Abbiamo L'invenzione del sonetto Di cui abbiamo già parlato Poi Ancora I poeti Della scuola siciliana Sono poeti Della corte siciliana E basta Mentre i trovatori Potevano essere itineranti Andare da una corte All'altra I poeti Della scuola siciliana Sono in quella corte E basta Anzi Sono proprio Abbiamo già detto Funzionari Dell'imperatore Federico II E non si muovono da lì Non erano poeti Professionisti Erano Abbiamo già detto Giudici Notai Funzionali di corte Cancellieri E perfino Lo stesso principe Il tema amoroso È il tema unico Delle poesie provinciali Non ci sono altri temi Prima di parlare Delle tematiche Però Rimaniamo sugli aspetti formali E diciamo Che c'era tutto Un sistema complesso Di rime Ma noi vogliamo Sottolineare il fatto Che a causa Dei copisti toscani Le poesie siciliane Non ci sono giunte Nell'originale E così avviene Che delle parole Che nell'originale Erano in rima Fra di loro Aviri Soffriri Erano in rima Fra di loro Invece Nella trascrizione toscana Diventano Avere E soffrire Allora uno Quando li legge Dice Ma che strano Non sono in rima Perfetta fra di loro Beh attenzione Non sono in rima Perfetta Perché i copisti Toscani hanno Modificato le parole Ma in realtà All'inizio Lo erano Ora che cosa succede Poi? Succede che i toscani Vedono questa cosa Come una cosa Un po' eccentrica Originale No? E allora si mettono Loro a fare Delle rime Siciliane Apposta No? Perché dicono Ma deve essere Un espediente Dei poeti siciliani Non capendo che invece Era dovuto A una cattiva Trascrizione Oltre alle rime Potevano essere Presenti anche Delle assonanze O delle consonanze Che sono delle rime Imperfette Ovviamente L'assonanza E la consonanza Sono rime Imperfette Perché con l'assonanza Rimano solo Le vocali Abbiamo studiato l'anno scorso Consonanza Rimano solo Le consonanze Questo però Soprattutto Nella lirica Provenzale Ad esempio Invece Nella scuola siciliana Le rime erano perfette Come? Anzi Erano molto ricercate E tante volte C'erano delle rime Particolarmente Raffinate Insomma Ricercate Bene Parliamo Dicevamo adesso Del tema Il tema unico È quello Dell'amore La donna però In genere Nella poesia Trovadorica Provenzale Poteva essere Corrispondente A una donna Ben precisa Quindi Una donna In carne ed ossa E il trovatore Poteva esprimere Anche una sua esperienza Personale Di amore Per una donna Per una signora Invece Nella scuola siciliana Tutto diventa Molto più astratto E convenzionale È solo un tema Una tematica Convenzionale Che deve dare spunto Al poeta Per Poetare Per scrivere poesie Che divertono L'imperatore Che divertono I dignitari Di corte Eccetera Ma che non Corrispondono Più assolutamente A un'esperienza Vera e effettiva Del poeta Inoltre Nella poesia Siciliana Proprio perché È così convenzionale È così astratta Eccetera Abbiamo Un interesse Anche Per altri aspetti Ad esempio Per l'analisi Filosofica E psicologica Oppure Per le immagini Della natura Per i fenomeni Naturali Come vedremo Nella poesia Che leggeremo I fenomeni atmosferici Eccetera Perché l'amore È un Sì È il tema unico Dicevamo Di queste poesie Ma è un amore Sempre più astratto Sempre più convenzionale È il caso Dicevamo Della poesia All'aere È claro Che adesso Leggeremo In cui Vengono approfondite Esperienze Interiori Mentali Quindi La donna È da semplicemente Spunto Ad un'esperienza Mentale Interiore Eccetera Comunque Giacomo D'Arentini Abbiamo già detto È stato il più grande Fra questi poeti Siciliani È stato il caposcuola Dice Un certo Brugnolo All'inizio Di nessun'altra Tradizione lirica Volgare Del Medioevo Si trova una personalità Altrettanto forte E definita Dal punto di vista Dello stile Della poetica È quello di cui Ci sono rimaste Più poesie Tante poesie Canzoni Sonetti E poi Insomma Lo stesso Dante Nel ventiseiesimo Del Purgatorio Incontra Guido Guinizelli Insomma Incontra Uno Il più grande Iniziatore Fondatore Volevo dire Dello stilnovismo Come vedremo La prossima volta Ecco Ebbene Parlando con Guido Guinizelli Riconosce Lo stile alto Elevato Della poesia siciliana In particolar modo Appunto Di Jacopo Giacomo Il primo Per anzianità E prestigio Dopo di lui Abbiamo già detto Ci sono stati Tanti altri poeti Della scuola siciliana Tra cui Ricordiamo almeno Guido Colonna Guido delle colonne Per la sua grande abilità E per la sua Perfezione formale Stilistica E poi Stefano Protonotaro Che è sempre più vicino Ormai Alla scuola Sicolo Toscana Di cui parleremo La prossima volta Ed è l'unico Dicevamo Dicevamo Dicevamo